E spegnete questo cazzo di riscaldamento. Oh Angelo! E' arrivato Luca Camertilla. Che ti serve? Ma chi ti ha congiato così? E niente, sono scaportato con l'abito di un amico mio. A proposito, io ti venivo a dire se conosci qualcuno che c'è una petta, così me la faccio pure io. E per forza, te cappotti con la petta. Vai in giro con i sandali e con i garzetti sotto. Mi sembra una tedesca che magari stai a mangiare la pizza con l'ananas o gli spaghetti con il ketchup. Ma che scherzi la pizza con l'ananas? E' buonissimo. Ci mettono il prosciutto cotto, è una squisitezza, non l'hai mangiata mai? Cioè, ma tu sei l'ufficinato mio? Mi stai attaccato con le terre, ma tu devi stare 27.000 km lontano. Ma fai a zappare la terra! Ma fai a zappare la terra tu? Ma ti ero venuto a dire che sullo giardino oggi stanno le persone che stanno piano sole. Che fa come si pare qua? Piano sole? Sullo giardino? Noi glielo faccio vedere io, va! Ecco, quella è la, guarda! La maiella, ma glielo faccio vedere io! Sta svergognata! Eh, se la sta svergognata, guarda! Ciao! 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 Io vi faccio il bar subito, due birre fresche con due bicchieri metti sul conto mio! Vówne vówne! Ma come due bicchieri e due birre? Che dps, tre birre no? Uno due due? Ma che tre?! Che tre? Tu estee cose non le capisci! Vai! Cammina! Cammina! Non le sai queste cose! Vówne! ma la zappa la terra